Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna a causa di un incidente ci sono rallentamenti tra Barberino e Aglio. Sullo stesso tratto vietato il transito ai mezzi pesanti. Sulla Fipili per lavori di messa in sicurezza è chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in direzione Mare. Sulla A12 fare attenzione per vento forte segnalato tra Versilia e Colle Salvetti. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buonversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!